E adesso andiamo a vedere questa pazza ma anche naturale primavera con questi cambi repentini del meteo. Che cosa ci dice Filippo insieme a Emanuele? Eh sì, è così, alla fine è primavera ed è bene che sia così. Caro Filippo, benvenuto ancora una volta. Filippo Tieri, il nostro meteorologo. Grazie Emanuele, buonasera a tutti. Allora, cosa possiamo dire di quello che sta avvenendo in queste ultime ore, visto che appunto è primavera? Stalmente normale la pioggia d'aprile a carattere appunto improvviso, intenso, ma anche passeggero, che non solo tutti gli anni, citiamo sempre una canzone della fine degli anni Ottanta di Francesco Cuccini, le piogge d'aprile che in mezz'ora lavano un animo o una strada e lucidano in fretta un pensiero o un cortile bucando la terra dura e nuova, cioè la terra indurita dopo il gelo invernale, come una spada, cioè la terra che accoglie proprio con effetto benefico questa pioggia capace di bucarla per prepararla al rigoglio, al risveglio poi della tarda primavera e dell'inizio dell'estate. Ma quest'anno possiamo aggiungere anche la stessa citazione ma al singolare, cioè pioggia d'aprile, che ha il titolo sia di una posizia di Umberto Sabba che nel 1951 ci racconta l'arboscello, cioè un esile arbusto, che il poeta paragone a un adolescente, un giovinetto troppo alto per la sua verde età, che è quasi proprio percosso da questa pioggia così intensa e anche da un gran vento, cioè le classiche raffiche che accompagnano i soldi temporali, così come un adolescente magari può trovarsi davanti all'asperità della vita troppo così importanti per la sua appunto giovane età. Stesso titolo, pioggia d'aprile, nel 1889 un giovane Luigi Pirandello, va a 22 anni quando scrive questa poesia in cui ci racconta degli uccellini appena nati in questo periodo, negli indi nuovi sui vecchi tetti che a toni di quasi spaventati accolgono con i loro gridolini l'attesa, l'invocata, pioggia di metà aprile, qui l'aggettivo invocata proprio ci riporta a quell'effetto benedifico di cui un secolo dopo ci racconterà anche appunto il buon Guccini e poi la poesia passa in seconda persona singolare, si rivolge a un ipotetico interlocutore che invece guarda la pioggia da dietro il vetro di una finestra e la guarda invece ridendo, a differenza dello spavento degli uccellini, perché ha la consapevolezza che è nube che passa, è nuvola che passa, cioè è tanto improvvisa e anche intensa quanto passeggera. Quindi se da Pirandello a Guccini passando per Sabba in 140 anni di storia quasi tutti i cantori e i poetici raccontano della pioggia d'aprile così appunto brusca e intensa ma passeggera vuol dire che quando poi ci stupiamo che piove aprile e chiediamo quando arriva la primavera, come dicevi all'inizio, è proprio questa la primavera. Quella che invochiamo è l'estate ma per fortuna ancora non è arrivata perché sarebbe prematura. Urge che qualche cantante trap del momento faccia una nuova versione in modo da ricordarci che siamo più 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 più... Per i nostri giornalisti che si, che continuano a sorprendere loro con titoli che invocano l'arrivo della primavera come se questa non fosse proprio la mezza stagione. Certo, certo, Filippo hai ragionissimo.